Un progetto nato per valorizzare ancora di più lo storico ribelle. Aspettando CIS, il tradizionale evento di Slow Food che si terrabra a settembre, a Morbegno è stato presentato il progetto Folker. Credo sia l'atto finale per tentare di salvaguardare questa produzione storica. Noi abbiamo cominciato con il centro del Bitto di Gerola, in cui volevamo creare un punto che si accumulasse lì il formaggio tutto l'anno, in modo che fosse una cosa viva che continuava. Il progetto Folker è la rivalutazione di questo mondo contadino, cioè presentare questa storia antica sotto un'altra forma. Siamo riusciti a mettere sullo stesso piano il nostro formaggio a un quadro, a un monumento, a un qualcosa di storico. Questo è fondamentale perché è un nuovo modo di raccontare questa storia che sembrava invece di umili. Presente all'evento di Palazzo Folker a Morbegno, anche la presidente di Slow Food Italia, Barbara Nappini, che parla dell'importanza dei presidi. Il presidio, che è la tutela di un cibo a rischio di estinzione, per noi è un progetto molto più ampio, che in primis riguarda evidentemente la tutela della biodiversità naturale e anche agricola, ma che riguarda, in una prospettiva più ampia, la possibilità di esistere e di vivere in un luogo piuttosto che no. Spesso abbiamo visto che il fatto che un presidio esista in un luogo, soprattutto nelle quelle che vengono chiamate in maniera anche impropria aree marginali italiane, il fatto che un presidio esista o no è la differenza che passa tra abbandonare un paese oppure restare a vivere lì. Quindi, in definitiva, ha una ricaduta diretta sulla vita delle persone. Noi sappiamo che l'abbandono dei luoghi non soltanto significa l'abbandono di un paesaggio, che è quello che vengono a vedere a milioni da tutto il mondo, soprattutto in Italia, ma significa veramente la morte di un paese, perché i paesi sono cosa viva ed esistono fin tanto che le comunità li abitano.